Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video di Roblox! Oggi ho scoperto questo nuovo gioco che si chiama Speed City e a quanto ho capito, in pratica, dobbiamo diventare da super lenti, ovvero come sono io adesso, a super veloci prendendo queste sfere, sbloccando nuove mappe e comprando delle scie che ci potenzieranno. Quindi direi di iniziare prendendo questa bellissima sfere che mi ha dato 100 passi e la velocità si vede a vista d'ocche in realtà, che sta aumentando. Poi ci sono anche delle gare e come obiettivo per questo video vorrei sbloccare la mappa dell'inverno e in cui a quanto ho capito c'è anche una missione da fare. Quindi prendiamo queste sfere, cerchiamo di non farsele rubare dagli altri giocatori che mi sembrano un po' agguerriti forse e vorrei provare anche a semmai vincere una gara a rispondere anche della fontana? Vorrei provare a vincere una gara per vedere quanto vado ma mi sa che c'è gente anche abbastanza fortina perché c'è gente anche qua su in cima con non so quanti passi non riesco nemmeno a leggerli da quanti sono e devo ammettere che questo gioco è anche abbastanza sviluppato perché c'è veramente tante mappe ho seguito anche un po' gli aggiornamenti e hanno aggiunto tante nuove cose ma questi qua che fanno? smettono di giocare perché si... Devo provare a comprare una scia vediamo quanto costa 2500 quindi quanto la mappa 250 proviamo 250 vai sì voglio comprarla che devo fare? ah niente ah bella vediamo no ma basta non voglio più comprare niente come si fa qui qua? sì moltiplica i passi di 1 le sfere le moltiplica di 2 e risalto di 1 equipaggiamo evviva adesso la scia rossa bellissima la preferivo gialla ma vabbè uguale chissà cosa c'è in questo qua da 250.000 e poi la scopriremo ok ah qua possiamo fare anche una gara semmai dopo ma se la faccio adesso che succede? ok sono dentro la gara e ho paura che questo qua mi batterà un po' di tanto ehi ehi anche te siamo solo noi due? ma non c'è nessun altro? questa cosa mi fa presumere che le gare non siano tanto belle via ah no c'è anche un altro eh sì vabbè cos'è cos'è? già perso ma nemmeno il tempo di fare un passo già perso vabbè lasciamo perdere vabbè io direi che ora faccio un taglio e ci vediamo quando abbastanza passi per prendere la nuova mappa semmai ok? no l'ho rubata no basta basta rubarmene oh chissà cosa dà quella celeste vediamo atti guarda ma dà zero quasi ok ragazzi siamo quasi arrivati a 2500 passi per sbloccare la nuova mappa quindi quella dell'inverno e tra poco si ci arriveremo chissà com'è sarà grande quanto questa? oh c'è un altro c'è un altro è mio è mio sì 150 siamo vicinissimi quello 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 manca solo quello e ce l'abbiamo ok possiamo scoprire finalmente com'è la nuova mappa la mappa dell'inverno proviamo ok oddio ma questa casetta è una casetta horror tra le finestre così 400 ma cosa? 300 ma tanto tantissimo quelli verdi nell'altro mondo davano solo 50 oh ciao tutto bene perché quello c'è un cerchetto? che significa? ah vuole che trovo l'occhio ah è vero non c'è un occhio poverino e dove sarà l'occhio? non sono brava a nascondire sinceramente non lo so dove potrebbe essere l'occhio ok ragazzi ho trovato l'occhio finalmente è dietro a questa scatola rossa ok devo tornare da lui guarda ti ho riportato l'occhio finalmente non sei più cieco prego mi ha dato qualcosa? eh? mi ha dato qualcosa? oh ma da tantissimo bellina bellissima e comunque tra l'altro adesso sono anche abbastanza veloce da vedere vabbè direi di come ultima cosa per concludere il video vorrei aprire qualche scatolina e come si fa a tornare indietro? ah facciamo questo pulsante qua ah ok si ok allora io voglio aprire qualche scatola 11.000 passi voglio aprire questa vediamo modalità bessia si chiama oh da tantissimo vado velocissimo voglio aprire un'altra sì un'altra ah un cappello un'altra un'ultima un'altra ma ma è una fregatura ma no scusami le posso le posso mettere insieme o però da più de 2 3 1 3 2 2 ah da più il cappello ma è veramente sono ah no perché ho speso i passi vabbè approfitterei di questo momento per concludere il video e direi che ci vediamo ad un prossimo video ciao